Per settimana sport siamo con Matteo Di Muri del Marola Acquasanta. Allora Matteo, primo tempo, due traverse, una partita. Primo tempo ce la siamo giocata, un po' di errori, caldissimo, abbiamo un po' sofferto, anche la preparazione, noi siamo stati fermi questa settimana e ci siamo allenati non al meglio. Abbiamo sofferto, abbiamo sofferto molto, loro che giocavano molto a palla, noi che con un po' di bari centro-basso, però alla fine il primo tempo ci abbiamo avuto le nostre occasioni e ce la siamo giocata bene. Secondo tempo invece abbiamo trovato il gol ma si vedeva che loro erano un po' più sul pezzo, un po' più gamba assolutamente, e alla fine non dico che ha meritato ma si vedeva che la gamba era un po' diversa, assolutamente, la condizione era diversa. Ma a mio parere penso che un pareggio forse sarebbe stato un risultato più giusto. Sì, sì, però dal campo si capiva che loro avevano un po' più di condizione, però adesso c'è il ritorno e ci proveremo a giocare le nostre carte, assolutamente. Vabbè, di modo penso che vincere il campionato regionale sia importante, ma è relativamente importante. Il nostro obiettivo è stato raggiunto e noi adesso ci divertiamo, non ci abbiamo niente, sì, fa piacere, però il nostro obiettivo è stato raggiunto, è stata un'annata lunga, ci siamo divertiti tantissimo, una squadra forte e niente, ci siamo divertiti quest'anno. Il nostro l'abbiamo fatto e ci vediamo domenica prossima. Vabbè, ad ogni modo no, non so se ci starò domenica prossima, ad ogni modo volevo concludere dicendo che vince il campionato di prima categoria, è importante, però soldi non ce ne sono, una volta davano anche l'iscrizione gratuita alla squadra che vinceva il campionato, credo che quest'anno non la diano. Questo è un problema, però noi veniamo da una squadra che i rimborsi sono a zero, lo facciamo solo per passione, quindi è un po' così, ci arrabbattiamo con le nostre mani. C'erano in tribuna le vostre tifose, mamme, penso, che dicevano appunto questo e cercavano anche degli sponsor, mi dicevano che cercano degli sponsor lì nella vostra zona per supportare anche le trasferte che avrete il prossimo anno che saranno anche molto costose. Sarà importantissimo, promozione è un altro mondo dalla prima categoria, ne ho avuto la prova facendola è un altro mondo, quindi bisogna un attimo prepararsi assolutamente. Va bene, in bocca al lupo, entrambe le scuole sono state promosse e l'obiettivo era quello di entrare entrambe. Ciao, grazie ancora. Ciao, ciao.